Bentornati in questo nuovo appuntamento di Cordiale, il nostro diario fra le corde. Nel video di oggi vorrei, come vedete dal titolo che ho chiamato questo appuntamento la bellezza delle accordature aperte, vorrei riagganciarmi al video della settimana scorsa dove vi ho proposto un piccolo brano che appunto utilizza l'accordatura aperta in Dat Gad e adesso fra un attimo vi farò capire cosa significa questa parola e appunto quindi partirò dallo studio della settimana scorsa per farvi vedere alcune parti del brano in maniera rallentata per chi volesse impararlo e per appunto avere qualche spunto di riflessione su questo tema secondo me molto interessante. Quindi vi ricordo per chi non avesse seguito il video della settimana scorsa lo trovate sul mio canale nella playlist di Cordiario e Cordiario Studies, entrambe le playlist. In descrizione di quel video avevo messo anche lo spartito in pdf, in pentagramma e tablatura da poter scaricare e consultare gratuitamente. Vi rimetto comunque tutti i riferimenti a questo video e allo spartito anche in descrizione del video di oggi. Quindi io partirò da quel video per fare oggi alcune riflessioni sul tema appunto delle accordature aperte perché è un argomento secondo me molto interessante, intanto perché è diciamo una caratteristica pressoché quasi esclusiva della chitarra acustica, c'è la possibilità di modificare l'accordatura dello strumento, non è solo della chitarra acustica ma nella chitarra acustica diciamo c'è stata nel tempo una grande un grande utilizzo di questa tecnica e una grandissima letteratura, cioè moltissimi artisti hanno utilizzato diverse accordature per comporre brani, quindi c'è moltissimo materiale a cui poter attingere ed è una caratteristica che permette di cambiare l'accordatura rispetto all'accordatura chiamata standard della chitarra, cambiare l'intonazione di alcune corde per ottenere delle sonorità completamente diverse. Il potenziale di questo argomento è enorme perché cambiando accordatura è come se cambiassimo anche un po' voce al nostro strumento quindi possiamo avere mantenendo uno stesso strumento avere voci diverse a seconda delle accordature che scegliamo di avere, quindi è un argomento potenzialmente tanto vasto quanto interessante. Solitamente per chi non lo sapesse l'accordatura standard della chitarra partendo dalla sesta corda è così composta MI, LA, RE, SOL, SI e MI, quindi dalla sesta alla prima. Quando si utilizzano le accordature aperte, chiamate anche in inglese open tuning, posso andare a modificare alcune di queste corde, non necessarie tutte, per cambiare appunto accordatura. Nel caso specifico io ho utilizzato una cordatura che si chiama DADGAD, questa sigla fa riferimento al nome, all'intonazione che io darò a ciascuna corda, a partire in questo caso dalla sesta alla prima. Quindi dalla sesta corda avrò DADGAD, DADGAD appunto. Rispetto alla cordatura standard andremo a modificare l'intonazione di solo tre corde, cioè la sesta che da MI si abbasserà RE e delle prime due, la seconda che da SI diventa LA e la prima che da MI diventa RE. Quindi le corde centrale, la quinta, la quarta e la terza rimangono invariate, varieremo solo la sesta, la seconda e la prima e otterremo quindi queste sei note dalla sesta RE, LA, RE, SOL, LA, RE. Perché si utilizzano le accordature aperte? Perché il grande vantaggio, e da qui poi deriva anche l'interesse compositivo, il grande vantaggio è che rispetto alla cordatura standard suonando le corde a vuoto, quindi senza l'uso della mano sinistra, io ottengo già un accordo e ovviamente la tipologia di accordo dipende dalla tipologia di accordatura che sono andato a scegliere e solitamente l'accordatura prende il nome proprio dall'accordo che io ottengo suonando le corde a vuoto. Questo uso delle accordature aperte appunto nella chitarra acustica affonda le radici veramente dalle origini del blues, dove anche i bluesmen dalle origini utilizzavano le accordature aperte per esempio per il bottleneck, da utilizzare appunto con il bottleneck. E poi diciamo anche nei compositori moderni contemporanei c'è stato un uso enorme di questa tecnica, ci sono alcune accordature codificate mentre ci sono altre accordature che anche diciamo i singoli artisti hanno, si sono anche diciamo inventati e creati per comporre e per scrivere dei brani. Nel caso specifico appunto della dadgad suonando le sei corde a vuoto io ottengo già un accordo senza usare la mano sinistra, l'accordo nel caso specifico è un re sospeso, siglato anche re su squattro, re sospeso rispetto a un re maggiore per esempio alla differenza che anziché avere il terzo grado ha al posto del terzo il quarto grado. Quindi per farla molto semplice un re maggiore è re fa diesis la, quindi ho presente il fa diesis che è la terza maggiore dell'accordo di re, se anziché il fa diesis io metto la nota sol avrò re sol la che sono esattamente le tre note che sono contenute in questa accordatura. Ecco queste tre note re sol la vanno a formare appunto questo accordo che si chiama re sospeso, sospeso perché mancando questa nota la terza maggiore non riesco diciamo a definire bene se è maggiore o minore ma mi dà questo carattere di sospensione e vi faccio sentire proprio adesso semplicemente pizzicando le corde a vuoto io ottengo questo effetto molto bello che è appunto questo accordo di re sospeso. Quindi intuite che il grande vantaggio sia dal punto di vista esecutivo che compositivo è il fatto che la chitarra diciamo suona già bene da sola e questo avrà un grandissimo impatto dal punto di vista esecutivo e anche compositivo nel senso che il primo spunto interessante è il fatto che avendo una chitarra che suona già un accordo da solo da sola quindi senza l'usa della mano sinistra le ditteggiature molto spesso della mano sinistra quando vado a suonare una composizione in accolatura aperta si semplificano, si semplificano moltissimo proprio per diciamo far risaltare naturalmente questa ampiezza di suono che ha utilizzando soprattutto molte corde a vuoto, molte legature e questo è diciamo uno dei primi indirizzi che diciamo si utilizza scrivendo con le accolature aperte e che ho cercato di utilizzare anch'io nel brano che vi ho proposto la settimana scorsa. Quindi un carattere importante è il fatto che la mano sinistra semplifica molto il lavoro, molto spesso questa semplificazione viene poi compensata a volte da un utilizzo maggiore della mano destra ma non è detto, però ecco questo è un primo carattere molto molto interessante e particolare delle accordature aperte. Io partirei adesso, vi faccio vedere lentamente le diverse sezioni del brano, ve le eseguo lentamente, vi dico alcune idee che ho cercato di mettere in fase di composizione e alcune appunto caratteristiche che derivano appunto dall'uso dell'accordatura aperta. quindi vediamo le diverse sezioni e partirei dall'introduzione suonata lentamente. Ecco avete visto in questa introduzione ho cercato proprio di sfruttare questo carattere molto diciamo risonante delle accordature aperte cercando di lasciare i suoni più lunghi possibili. Ho usato prevalentemente il pollice sia sulle corde basse che sulle corde alte per far uscire la melodia e ho fatto diciamo tra un passaggio e l'altro ho fatto sempre uno strumming come una pennata rapida sulle ultime tre corde dove suono re la re per creare questa atmosfera di fondo, queste note che danno appunto un'atmosfera sulla quale si poi si propone diciamo la melodia questa questa melodia introduttiva e le note appunto sulla sulle corde alte sono pizzicate prevalentemente con il pollice e poi utilizzo moltissimo le legature. Ecco questo è già un tema interessante perché grazie all'uso delle accordi a vuoto quindi collegandoci al discorso di prima una tecnica che va di pari passo in questo è sicuramente l'utilizzo delle legature quindi hammer on, pull off, slide per collegare rapidamente dei passaggi appunto ottenendo anche molte corde suonate a vuoto. Questa è l'introduzione adesso vi faccio sentire il tema principale, la prima sezione. Grazie a tutti. Alcune indicazioni compositive e anche esecutive di questa prima parte, come vedete appunto le diteggiature sono molto semplificate per quel che riguarda la mano sinistra, semplificate nel senso appunto che non vado a fare barret, cerco di utilizzare soprattutto le corde a vuoto, questo non significa che siano semplici e fra un attimo vedremo anche il motivo. Sostanzialmente ho i bassi e poi prendendo i bassi poi con le altre dita vado a fare le legature per la linea melodica. La cosa che in realtà è una complicazione in più che ho cercato di mettere nel brano è quella di abbinare nel momento in cui vado a fare delle frasi la parte bassa e la parte degli alti che rimane e dopo una prima esposizione della frase c'è una sezione intermedia mentre mantengo i bassi e gli alti, una sezione intermedia quindi sulle corde centrali che si sviluppa mentre appunto continuano sia le note basse che le note alte. Quindi questo prevede il fatto che quando prendo una posizione dopo aver esposto una prima frase manterrò la posizione sia sui bassi che sugli alti e andrò a lavorare su delle corde centrali per inserire quasi un tema intermedio. Vi faccio sentire proprio l'inizio che cosa intendo in proposito. Vedete la posizione io in questo caso mantengo la nota bassa alla sesta corda, mantengo la nota al canto e con l'indice e le corde a vuoto che che ho sotto vado a fare appunto questa linea intermedia quindi è come se avessi tre tre zone di lavoro che si vanno intersecare il basso che continua a suonare l'alto che continua a suonare e una voce diciamo intermedia che fa quasi da controcanto sia alla linea melodica che ai bassi. Questo ovviamente è interessante perché sfrutta questa sonorità della collatura aperta mi obbliga a una posizione diciamo un po' più allargata perché devo tenere ferme in questo caso due dita e lavorare con la in questo caso con l'indice il tutto cercando di far sì che queste due dita non vadano a influire negativamente sulla possibilità di suonare questa parte centrale quindi devono essere prese abbastanza ad arco in posizione bene con la punta delle dita in maniera che non vadano appunto a interferire con la parte centrale. Questa è la prima sezione poi appunto c'è una seconda sezione che è identica e una parte invece più alta dove farò uno slide per andare più avanti nella tastiera e userò anche gli armonici prima di chiudere questa sezione quindi vi faccio rivedere questa seconda sezione varia variazione rispetto alla prima. In questa sezione ripetendo tuta appunto la prima parte è identica poi vedete sono andato su con uno slide ho fatto un pull off e ho fatto poi gli armonici al dodicesimo tasto per poi chiudere con una frase di chiusura sono andato a prendere la nota qui in questo caso è un mi perché avendo la prima corda a re questo diventa un mi tenendo la melodia e anche qui mantenendo la parte alta e andando lavorare su una sezione centrale con le legature in questo modo a questo punto si apre diciamo una parte centrale completamente diversa terrò sulla parte alta dei bicordi quindi utilizzerò due note prese con medio e anulare sulla prima e terza corda che sposterò lungo la tastiera e diciamo dal punto di vista ritmico poi risponderà il basso in maniera diciamo costante e andrò ad alternare mentre continuano a suonare qui sarà questa diciamo l'idea tecnica da tenere presente dovrò mantenere ben fisse le posizioni di bicordi che continuano a suonare mentre risponderà il basso che andrò ad alternare con indice e pollice entrambi sulla sesta corda alternati quindi dovrò far sentire bene i bicordi far continuare il suono e contemporaneamente spostarmi per lavorare sui bassi vi faccio sentire questa sezione centrale per ottenere appunto questo effetto diciamo di botta e risposta fra le due parti è necessario appunto che la parte alta e continui a suonare mentre il basso fa questi diciamo questi questa alternanza tra pollice indice sulla sesta corda fatta questa parte c'è una piccola chiusura di questa sezione per poi ripetere quindi vi rifaccio questa parte con la chiusura di questa parte che poi andrà alla ripetizione la chiusura di questa sezione vado a prendere appunto il barré al terzo tasto poi metterò il mignolo il mignolo che poi si sposterà è più o meno un gioco simile alla frase di chiusura della prima sezione cioè mantengo la melodia che continuo a cantare mentre vado a lavorare sulle corde centrali qui riapre la prima sezione diciamo con le sue due ripetizioni quindi come abbiamo visto prima la prima parte e poi la parte che va in su ritorna poi di nuovo questa parte dei bicordi e poi ho ripreso molto simile una parte di bicordi nella chiusura del brano riprendendo sempre la stessa tecnica di alternare i bicordi con le alternanze di pollice indice sulla sesta corda però cambiando i bicordi quindi vi faccio sentire proprio questa variazione sui bicordi che porta alla chiusura qui si chiude il brano e le diverse sezioni vi ricordo che trovate appunto lo spartito in descrizione sia del video della settimana scorsa ma ve lo metto anche di questa settimana con lo spartito gratuito in pdf in pentagramma e tablatura da poter scaricare quindi potete ascoltare l'esecuzione completa a tempo che ho fatto la settimana scorsa avete questa piccola spiegazione in aggiunta in più avete lo spartito per poterla seguire diciamo passo passo per chiudere il video quindi la cosa che mi interessava comunicare grazie a questo a questo brano è veramente la potenza di questa di questa tecnica delle accordature aperte consente di suonare degli accordi senza usare la mano sinistra consente di avere un impatto sonoro molto molto interessante proprio perché vado a utilizzare molte corde a vuoto e quindi ho diciamo una potenza di suono che è più complesso da raggiungere in accordatura standard e ho la possibilità appunto di cambiare completamente voce al mio strumento e questo appunto mi dà delle possibilità anche compositive molto interessanti quindi questa secondo me è la cosa interessante di questo mondo delle accordature aperte che poi appunto è vastissimo perché le accordature aperte sono sono moltissime e quindi ogni accordatura diciamo ha poi anche il suo il suo utilizzo il suo diciamo anche i suoi generi dove viene più utilizzata ultima piccola nota caratteristica quasi una battuta la cosa anche interessante della collatura aperta è che se parliamo delle corde a vuoto io tecnicamente non posso mai sbagliare perché suonando le corde a vuoto suonano sempre bene quindi diciamo che è una cosa che dico sempre anche a me quando mi capita anche di suonare magari dal vivo di brano in accordatura aperta e il consiglio è mal che vada mollo la mano e qualcosa viene fuori se dovesse e se dovessi trovami in difficoltà a parte la battuta comunque c'è una parte di verità nel senso che è chiaro che se io vado a tastare le corde vado a produrre delle note diverse ma nel momento in cui io comunque suono le corde a vuoto comunque non posso mai sbagliare perché la cordatura diciamo si regge già in piedi da solo e questo diciamo può essere un aiuto in più anche durante l'esecuzione che non guasta nel caso dovessero esserci magari qualche vuoto di memoria bene chiudo qui il video spero vi sia piaciuto fatemi sapere se vi interessa l'argomento potrei anche ritornarci magari facendovi sentire delle altre accordature aperte chiudo qui il video ci vediamo nel prossimo appuntamento nel frattempo buona settimana e buona musica grazie 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 grazie